salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio di gym oggi alleneremo le braccia partiremo con bicipiti e finiremo con i tricipiti ragazzi come primo esercizio faremo in carlo 42 kg finalmente decido di aumentare in questo difficilissimo esercizio con questo peso ovviamente 42 kg una ripetizione poi 32 kg massimo di ripetizione faremo tre serie per uno e una per max iscriviti al canale prossimo esercizio martello su panca 40 41 gradi da seduti ovviamente 12 kg 3 serie per max panca scott cavo basso come prossimo esercizio come potete vedere 14 kg ragazzi passiamo l'esercizio 3 serie per 10 10 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 Grazie a tutti. Ragazzi siamo qua pronti per fare i 34 kg. Ovviamente si parla di tricipiti French Press. Tre serie, due per uno, due massimo, 34 kg, una per max con 24 kg. Tre serie, due massimo, 34 kg. Tre serie, due massimo, 34 kg. Secondo esercizio, abbiamo un French Press al capo basso, 14 kg ragazzi, sto rischiando, 14 kg. Vediamo quanto ne facciamo. Spero almeno di fare un 3x8, almeno spero, poi se ne facciamo 10 meglio ancora. Prossimo esercizio, ragazzi abbiamo push down con l'asta. Non ho quella piccola ancora, però vabbè sono dettagli, va bene lo stesso anche questo. Ovviamente aggiungerò altri 10 kg perché sono 24 i kg con cui andrò a farlo. Ultimo esercizio, ragazzi. Andremo a fare panca piana, presa stretta, per tricipiti ovviamente 40 kg. Come potete vedere, 15 e 15,30 più 10 di bilanjele, ragazzi. 40 kg. 3 serie per 8. Grazie. 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 Ebbene ragazzi, questo è il grafico. Un'ora di allenamento, media, frequenza cardiaca 124 battiti per minuto, frequenza cardiaca massima 158. Chilo calorie bruciate, 506. Questo è il grafico dei battiti. Battito massimo 138, 157. Battito minimo 119. Battito minimo 119. Grazie a tutti. Grazie a tutti.